Buona domenica ed eccoci anche oggi ritrovati al quotidiano spazio dedicato all'informazione. Come on guys. Buona domenica. D, C, E, Z, K. Cosa ti senti? Non riesco a far entrare l'aria un po' rapidamente. È un problema solamente che sia un po' ansioso, che sia un po' intenzione. Pia, 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 pia. Tutto questo ti passi tanta rabbia, ti passi un vuoto nello stomaco, un buco. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia.